E' morto Claudio Tosato, 62 anni e considerato il re italiano dei jukebox. L'uomo se n'è andato a causa del covid, che lo aveva colpito poco tempo fa. Tra i suoi clienti tanti VIP, italiani e stranieri, tutti accomunati dalla passione per le scatole musicali. Originario di Castelfranco Veneto, Treviso. Claudio Tosato aveva ereditato dal padre, il ciclista Mario. L'amore per i jukebox. Una passione diventata presto anche una professione, che l'ha portato ad essere il miglior restauratore ed uno dei maggiori esperti di tutta Europa. Anche dopo gli MP3 e i computer, Claudio Tosato aveva saputo reinventare la propria arte, diventando l'esperto di riferimento per tantissimi VIP. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, Claudio Tosato si era contagiato poche settimane fa, iniziando presto a manifestare sintomi come febbre, spossatezza e mancanza di appetito. C'è da specificare che Tosato aveva anche altre patologie pregresse che hanno aggravato notevolmente il decorso della malattia. Tanti i suoi clienti più celebri, Caterina Caselli, Red Ronni, Marta Marzotto, Alessandro Del Piero, Paolo Sousa, Edoardo Bennato e Renzo Rosso. Le sue attrezzature, però, sono arrivate perfino in Vaticano, nella sala ricreativa dei padri agostiniani. Alle fiere e alle altre manifestazioni espositive di settore il suo stand era sempre tra i più visitati. Tosato passava giorni interi chiuso nel magazzino, in un festoso gioco di echi, hit musicali e note che i jukebox hanno regalato a tante generazioni. Ti potrebbe anche interessare, 3 gennaio 2021 barra. Tosato passava giorni interi chiuso nel corso della malattia. Tosato passava giorni interi chiuso nel corso della malattia. Tantigosa passava giorni interi chiuso nel corso della malattia. Tasava giorni interi chiuso nel corso della malattia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.